ciao raga allora tutti i fan di mire ha letto ma ce la fai sentire sta vespa con il motore il rumore certo allora oggi è una bella giornata in germania abbiamo quasi 17 gradi c'è il sole raga c'è il sole il sole bellissima giornata ok la vespa un po freddino ok arrivo in fondo lì e ritorno la faccio sentire ok ok proviamo raga no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.